Ormai è ben chiaro che la questione migranti e la loro sistemazione anche in Versilia, prevista per settembre, non è solo una questione politica. Viareggio e Pietrasanta, con i rispettivi sindaci di diversa appartenenza partitica, chiudono le porte delle loro città ai profughi che la prefettura vorrebbe smistare sui nostri territori, ammettendo che non sono nelle condizioni di ospitare nessuno. Il primo cittadino di Viareggio che ha ricevuto ripetuti solleciti per la sestimazione dei profughi ribadisce ai nostri microfoni che di fronte ad un tema così delicato come l'accoglienza è impossibile accettare imposizioni. Noi siamo appena arrivati, dobbiamo verificare i punti di accoglienza sul territorio, dobbiamo implementare una serie di progettualità perché non credo sia utile e opportuno fare semplice accoglienza, ma credo che sia importante fare accoglienza attiva degli eventuali migranti o profughi sul territorio. Per questo abbiamo chiesto al prefetto di decidere entro i primi giorni di settembre quando avremo verificato tutto questo. Per noi è importante avere una forte collaborazione con l'associazionismo del territorio, proprio perché assieme a loro possiamo certamente rendere più fruibile e quindi è una cosa che è percepita in maniera non positiva dalla cittadinanza. Io ritengo che l'istinto di solidarietà debba essere preminente, ma ritengo anche che sia necessario avere tutto a posto per poter cominciare a dire accogliamo.